come aumentare di fps sul gioco bodycam uno sparatutto ultra realistico è possibile tenere così la grafica abbastanza bene godibile sopra i 60 fps quindi in questo caso ho fatto anche un overclock alla scheda video 1660 super aumentando di un po di fps in più mettendo anche la grafica al medio quindi l'ho impostata bene e facendo anche altre modifiche nel pannello di controllo di invidia e su invidia app e siamo riusciti così ad arrivare oltre 60 fps su bodycam quindi in questo tutorial ti spiego come aumentare gli fps sul gioco c'è il programma invidia app che uso per la mia scheda video 1660 super tutto in descrizione invidia app eccolo qua vado direttamente su grafica vado così e prendere il gioco bodycam se non lo trovi qua basta che vai sui tre puntini qui c'è scritto aggiungi programma e per aggiungere così il programma bodycam ecco bodycam punto exe sincronizzazione verticale metto disattivato per aumentare gli fps non bloccarli modalità di gestione alimentazione mettiamo adattivo riguarda anche la frequenza fotogramma massima mettiamo attivato fino a 1000 fps modalità bassa radenza mettiamo ultra ridimensionamento immagine lo devi tenere disattivato perché se lo mette attivato c'è la nettezza che è troppo alta quindi in questo caso se lo tieni attivo metti su 59 per cento ecco ammetti 30 e fai applica una volta fatto c'è sempre il programma che si chiama invidia contro panel per aggiustare anche la grafica su gioco vado direttamente su testisci impostazioni 3d impostazioni programma vado su aggiungi vado così a mettere il programma bodycam ecco bodycam l'ho aggiunto qua e adesso posso fare le modifiche dimensionamento immagine metto disattivato anche se l'ho modificato se invidia però adesso ci consiglia invidia quello che dobbiamo fare attivato facciamo pure applica centriamo fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico mettiamo contro controllata dall'applicazione facciamo applica il trostruttura qualità mettiamo mettiamo prestazioni elevate facciamo applica e basta chiudiamo qua e ritorniamo su bodycam una volta fatto andiamo direttamente su bodycam andiamo così a modificare la grafica come puoi vedere io mettendo tutto epico tutto ultra faccio intorno ai 21 fps quindi in questo caso su amd fs fs r3 andiamo così ad abilitare ultra performance questo qua metti se mettiamo on mettiamo performance illuminazione globale ve lo fa sempre tenere sul logo qua invece mettiamo su anti lesing medium distanza medium texture mettiamo lo le ombre non ci servono effetti lasciamo stare riflessi poi andiamo su riguardo anche alle foglie la qualità qua mettiamolo post processi mettiamolo e gli ultimi tre li devi per forza tenere attivi se no non si vede bene botica e applichiamo così queste impostazioni quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video siamo riusciti almeno a portarlo fino a 60 fps rendendo un po la grafica godibile diciamo così con la 1660 super un processore asin 5 3600 32 gb di ram escono fuori questi fotogrammi al secondo su botica quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti lascia like come ho detto se avete problemi commentate sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao